Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vi mostrerò come partecipare alle sessioni di Microsoft Teams, piattaforma che verrà utilizzata per svolgere le sessioni del collegio docenti unitario. Sostanzialmente esistono due metodi per poter partecipare a tali sessioni. Il primo metodo, e quello preferito, è attraverso l'uso dell'app Microsoft Teams. Il secondo metodo, o quello alternativo, è di utilizzare direttamente uno dei due browser supportati, che sono o Google Chrome oppure Microsoft Edge. Quindi tutti gli altri browser non vanno bene, o Google Chrome o Microsoft Edge. Di seguito vi farò vedere entrambi le soluzioni, così che abbiate una panoramica generale sull'utilizzo di questa nuova piattaforma. Partiamo quindi dall'utilizzo dell'app. L'app è disponibile per tutti i sistemi operativi, sia desktop, quindi Microsoft Windows, Mac OS X o Linux, sia per dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, sia Android che Apple. La prima cosa da fare, naturalmente, è quella di scaricare l'app. Ecco, qui vi ho messo il link alla pagina ufficiale del prodotto Microsoft. Come nota, vi dico che se state utilizzando un dispositivo mobile, potete installare e scaricare l'app direttamente dai rispettivi store. Quindi Google Play se state utilizzando un dispositivo con Android, Apple Store se state utilizzando un dispositivo con Apple. Proviamo ad aprire il link, lo apriamo in una nuova scheda. Eccolo qua. Lui vi porta già sulla pagina corretta per scaricare la versione in base al sistema operativo da cui state lavorando. Quindi io lo sto prendendo da Windows, se clicco su scarica versione per desktop, lui mi scarica la versione per Windows. E così via, in base al sistema operativo che state usando sul vostro dispositivo. Qua c'è anche il link per la versione mobile, quindi se voi fate scarica l'app per dispositivi mobile, lui vi porta in fondo la pagina, vi chiede un indirizzo e-mail a cui verrà inviato il link per scaricare l'app sul dispositivo mobile. Ora torniamo in cima e proviamo a scaricare la versione per desktop. Venite portati qua, dovete cliccare su scarica Teams. Come vedete parte il download, sono un centinaio di megabyte circa, quindi se avete una connessione abbastanza buona, sono pochi secondi di download. Aspettiamo che il file finisca di scaricarsi. Una volta che ha finito, potete cliccare su apri file. Se vi chiede di eseguirlo, lo eseguite. E sostanzialmente adesso parte l'installazione, che impiega qualche secondo in base alla velocità anche del computer. Eccola qua, parte, installing Microsoft Teams. Attendiamo qualche istante, non vi verranno fatte altre domande, quindi l'installazione praticamente si riduce nello scaricare il file da internet, farci un doppio clic sopra e come vedete vi viene messa l'icona sul desktop, oppure se è un dispositivo mobile la troverete tra le varie applicazioni disponibili e si apre la pagina di autenticazione. Dunque qua l'app potrebbe proporvi l'account locale con cui siete collegati al computer, qualcosa del tipo mio nome, chiocciola, local domain oppure local. Non è quello che dovete usare per entrare nell'app Teams, ma per entrare con il proprio account Istituto35 dovete andare sotto su questo link, usa un altro account o iscriverti, farci un clic, verrete portati sulla pagina di accesso di Microsoft in cui dovete inserire il vostro indirizzo e-mail, chiocciola, istituto35.it. Una volta che lo avete inserito fate clic sul pulsante azzurro con avanti. Quello che deve succedere adesso è che venite portati sulla pagina di autenticazione di Google, questo perché i due sistemi sono federati e quindi l'account è unico e l'accesso al mondo Microsoft avviene attraverso l'utilizzo dell'account Google. Qua dovete riscrivere il vostro indirizzo e-mail istituto35.it, fare un clic su avanti, vi viene chiesta la vostra password, la inseriamo e facciamo un clic su avanti. Adesso attendiamo qualche secondo che il sistema si mette in comunicazione, caricamento di Microsoft Teams in corso, l'app si sta caricando, vediamo un attimo, e se tutto va a buon fine dovreste venire riportati dentro l'app in cui sarete logati con l'account con cui vi siete appena autenticati. Vediamo un attimo, qualche momento di attesa all'inizio perché si deve loggare. Allora, in alto a destra c'è questo cerchio che contiene le iniziali del vostro nome e gli iniziali del vostro cognome, ci fate un clic, si apre questa tendina in cui potete verificare che effettivamente siete dentro l'app autenticati con il vostro account nome e punto cognome questo è la parte di installazione e autenticazione dentro l'app. Ora, metto icona, vado ad aprirmi la mia email, istituto35, da cui pescherò un link e vi farò vedere come entrare effettivamente nell'app. Eccolo qua. Quindi, a voi arriverà un link in questa forma che naturalmente verrà pubblicato giorni prima della sessione del collegio. sostanzialmente quello che dovete fare è fare un clic su questo link e venite portati, si apre una nuova scheda, venite portati su questa pagina. A questo punto, adesso noi stiamo provando con l'app e quindi se avete l'app installata scende questa tendina perché lui sente che l'app è aperta e installata e dovete cliccare su Apri Microsoft Teams. Come vedrete, tra qualche istante verrete portati dentro l'app nella stanza di pre-accesso a quello che sarà la sessione vera e propria. Quindi, da qui, cosa potete fare? Potete abilitare la webcam. Ok, eccomi qui. Ciao. Che però è sconsigliato fare. Quindi, tenete pure la webcam disabilitata che è l'impostazione anche per default e qua a destra selezionate Audio Computer. Una volta che l'avete selezionato potete disabilitare il microfono che anche questa cosa qua va fatta altrimenti tutti entrano col microfono attivo e si genera già subito una confusione che è meglio evitare. Quindi, come vedete, ricapitolando webcam, qui a sinistra, disattivata vedete la barra sopra microfono barrato, quindi disattivato. Quindi, quando siete in questa condizione fate partecipa ora. e tra qualche istante verrete proiettati dentro la sessione. Ok? E una nota importante quello che vi consiglio di fare è di chiudere la scheda l'app che avete sotto. Vedete, qua c'è la sessione Microsoft Teams e sotto c'è l'app. Chiudetela così non vi genera confusione e vi mettete a tutto schermo la sessione Microsoft Teams che è la sessione vera e propria in cui tutti i partecipanti si collegheranno e in cui verrà svolto il collegio. E velocemente i comandi sono qua sopra quindi barra in alto a destra il primo mostra i partecipanti ah, mi sono dimenticato voi tutti voi docenti entrerete e avrete il ruolo di partecipante quindi non potrete presentare non potrete zittire gli altri partecipanti nel caso in cui avrete bisogno di partecipare vi verrà dato il permesso durante la sessione comunque primo pulsante mostra i partecipanti naturalmente mostra i partecipanti e i relatori che in quel momento sono dentro la sessione il secondo pulsante qui accanto a quello dei partecipanti è mostra conversazione si tratta esattamente della chat quindi come in google meet c'è la possibilità di avere la chat in cui è possibile scrivere e in cui verranno verranno messi i link ai moduli per l'entrata e per l'uscita quindi anche questa cosa qua tenetela presente accanto c'è il pulsante il solito classico pulsante per alzare la mano vicino ancora i due pulsanti per abilitare la videocamera o il microfono se intendete parlare e nient'altro nel senso che c'è il pulsante abbandona che adesso clicchiamo e vi butta fuori dalla videoconferenza e questo è quanto riguardo l'utilizzo dell'app microsoft teams ora facciamo una prova per l'accesso via browser dunque dico subito una cosa browser proviamo con chrome quello che dovete fare subito all'inizio è siccome tante volte le persone hanno più account gmail logate dentro lo stesso browser ok quindi quello che vi consiglio di fare anzi che dovete fare è cliccare qua dove c'è l'iniziale del vostro nome ok e fare esci ok quindi iniziale del vostro nome esci il browser vi rindirizza la pagina degli account google e dovete verificare che tutti gli account potreste averne anche decine riportino la scritta disconnesso a fianco ok tutti quindi devono essere tutti disconnessi dopodiché partite adesso io qua mi chiudo mi chiudo chiudo tutto parto da questa situazione qua ok tutti gli account disconnessi entro in quello che voglio usare per esempio questo ok inserisco la password avanti aspetto che si carichi vabbè qua non mi ho portato in gmail perché prima ero già fuori andiamo in gmail vabbè questo è un errore credo temporaneo sì esatto e andrò ad aprirmi a cercare il mio documento ufficiale che conterrà un link in questa forma ok clicco sul link si aprirà una nuova conversazione anzi scusate prima devo chiudere l'app altrimenti lui sente che ho l'app aperta quindi facciamo un passo indietro entro nella mia email cerco il documento vado sul link qua chiaramente lui sentendo che l'app è installata sul computer mi chiede di aprire l'app perché è il metodo preferito in questo caso faccio annulla perché voglio usare direttamente attraverso il browser come vedete qua il pulsante centrale continua in questo browser faccio un click qua e adesso bisogna attendere che l'autenticazione vada a buon fine ci metterà un attimo potreste vedere la pagina che si ricarica più volte ma è normale ecco come vedete sono stato catapultato dentro Microsoft Teams però via via web in questo caso lui mi propone sia webcam sia microfono accesi quindi disattivo la webcam disattivo il microfono controllo in alto a destra stesso pulsante di prima di essere logato con il mio account istituto 35 e dopodiché cliccando su partecipa ora venite portati dentro la sessione qua vi dice che siete dei partecipanti quindi alcune funzioni sono disabilitate come vedete la barra di controllo che prima dentro l'apera in alto a destra qui è al centro dello schermo in basso stessi pulsanti attivo la videocamera attivo disattivo il microfono se voglio alzare la mano mostra la conversazione quindi la chat e mostra l'elenco dei partecipanti e quindi attenetevi a questi pulsanti qua sotto e non guardate questi laterali perché non vi interessano quindi voglio aprire la chat e apriamo la chat della riunione ok quello che io farei è entrare come ho appena fatto aprirmi subito la chat così se ci sono messaggi o se voglio intervenire buongiorno vorrei intervenire ok invio invio il messaggio poi il dirigente o un suo collaboratore quando sarà il momento opportuno vi darà la possibilità di fare il vostro intervento grazie per l'attenzione questo è tutto e in caso di problemi poi vedremo di risolverli effettivamente sul campo grazie per l'attenzione